Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di telestense, allarme e violenza domestica, non si placca l'emergenza, codici rossi a Ferrara e in tutta la provincia estense, lo testimoniano le chiamate di richiesta di aiuto arrivate ai carabinieri nella notte tra venerdì e sabato scorso. Tre chiamate in una sola notte per richieste di aiuto e di soccorso per altrettanti interventi. Sono quelle arrivate al 112, il numero di emergenza dei carabinieri di Ferrara e della provincia estense tra venerdì e sabato scorso, come la chiamata arrivata alla centrale operativa di Porto Maggiore da parte di una bambina che chiedeva aiuto perché la mamma era stata aggredita dal suo compagno in casa. Arrivati sul posto con una pattuglia, i carabinieri hanno constatato che effettivamente la donna, una 43enne romena, era stata aggredita, spintonata e picchiata dal compagno convivente che nel frattempo si era allontanato dall'abitazione. La litta era scattata per questioni economiche riferite al pagamento delle bollette. Seppur sconvolta, la donna però non ha presentato denunce e ha rifiutato le cure mediche e l'assistenza di strutture e personale specializzato. Sempre nella stessa notte, al 112, è arrivata un'altra richiesta di intervento in un'abitazione del Mezzano, dove una coppia di cinquantenni ferraresi stavano pesantemente litigando per questioni sentimentali. I militari, giunti sul posto, sono riusciti a calmare i coniugi che hanno deciso di passare la notte in abitazioni separate per evitare il riacutizzarsi della discussione. Al numero di emergenza dei carabinieri di Ferrara è poi arrivata una chiamata nella notte da parte di una donna che vive in città. Si trattava di una madre, aggredita e picchiata in casa dal figlio ubriaco che chiedeva aiuto ai militari. Nonostante le percosse subite, la donna si è rifiutata di denunciare il figlio e non ha consentito alle cure mediche. Episodi che siglano, se ce ne fosse ancora bisogno, l'impennata di violenza nelle famiglie con accese e violenti liti tra le mure domestiche. Il Covid in Emilia-Romagna sono oltre mille, di cui 73 nel ferrarese. I nuovi casi di positività al coronavirus individuati nell'ultimo bollettino, sulla base di oltre 7 mila tamponi registrati. Due decessi, si tratta di due uomini, un 91enne di Parma e un 88enne di Modena. Il numero dei ricoveri negli ospedali della regione in terapia intensiva ci sono 23 pazienti, mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 613. Mal tempo, i cambiamenti climatici con il moltiplicarsi di eventi estremi si abbattono sull'Italia resa più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono delle campagne. In 25 anni è scomparso il 28% del terreno agricolo. A dirlo è col diretti che chiede al nuovo Parlamento che si approvi la legge sul consumo del suolo. Nello spazio di una generazione in 25 anni è scomparso più di un terreno agricolo su 4, il 28%, a causa dell'abbandono e della cementificazione che hanno ridotto la capacità di assorbimento della pioggia e messo a rischio l'ambiente e la sicurezza dei cittadini. E' quanto denuncia col diretti in riferimento all'ultima ondata di maltempo che ha colpito duramente le marche con danni e vittime. Nel 2021 sono stati consumati in Italia oltre 2 metri quadrati di suolo al secondo, il valore più alto negli ultimi 10 anni, con il cemento che ricopre ormai 21.500 chilometri quadrati di suolo nazionale, dei quali 5.400, un territorio grande quanto la Liguria, riguardano i soli edifici che rappresentano il 25% dell'intero suolo consumato, secondo il rapporto elaborato dall'ISPRA. Le aree perse in Italia dal 2012, sottolinea col diretti, avrebbero garantito l'infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana che ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili per la ricarica delle falde e aggravano la pericolosità idraulica del territorio. E' evidente, continua l'organizzazione agricola in Italia, la tendenza ad una tropicalizzazione del clima con le ultime ondate di nubi fragi e grandinate che si sono abbattute su terreni secchi che non riescono ad assorbire l'acqua, provocando frane e smottamenti con oltre 9 comuni su 10 in Italia che hanno parte del territorio in area a rischio idrogeologico, ma la percentuale sale al 100%, sempre secondo dati ISPRA per regioni come le Marche. Occorre accelerare sull'approvazione della legge sul consumo di suolo, dice Coldiretti, che giace da anni in Parlamento e che potrebbe dotare l'Italia di uno strumento all'avanguardia per la protezione del suo territorio, conclude l'organizzazione agricola. Parliamo delle elezioni, elezioni che si terranno domenica 25 settembre. Continuiamo a conoscere i candidati ferraresi, le cui interviste integrali, lo ricordiamo, sono disponibili sul nostro sito telestense.it. Cominciamo da Davide Bergamini, candidato plurinominale per Ferrara alla Camera dei Deputati. Covid ha messo in luce le difficoltà, il disagio, i problemi della sanità. Questo è il tema del programma su cui vorrei sapere che cosa dite. Sì, sul tema della sanità ci sarà molto da fare. Abbiamo proposto proprio anche nei giorni scorsi, proprio io come candidato, una proposta per dare la possibilità di inserire nuovi operatori, tutelare ovviamente gli operatori presenti. Immagino la categoria degli infermieri, anche delle OSCE, sono state sottoposte a turni veramente importanti, ad ore di lavoro, che sono state anche massacrate in alcuni casi, con anche una forte responsabilità nei confronti dei malati che assistevano in quel periodo. Oggi più che mai c'è la necessità di prendere subito di petto questa situazione, cercare di inserire nuovi medici, da cui anche nel nostro programma si chiede di non avere più un numero chiuso all'interno delle facoltà di medicina, proprio per dare la possibilità a più persone di poter partecipare ed eventualmente mettere uno sbarramento dopo il primo anno di medicina, non all'ingresso. Su questo c'è anche un fenomeno dei medici di famiglia nei piccoli comuni, soprattutto stiamo vivendo, io sono anche sindaco del comune di Vigarano e stiamo vivendo proprio queste difficoltà che spesso quando i medici vanno in pensione non c'è la possibilità di sostituirlo e ovviamente si vanno a colpire quelle fasce più fragili, perché sappiamo benissimo che oggi il medico di famiglia rappresenta nella maggior parte dei casi quell'assistenza primaria che viene data alle persone anziane e ai bambini, quindi ci sarà bisogno proprio di intervenire in quel settore in modo molto rapido. Ora sentiamo Andrea Zerbini, candidato all'Uni nominale di Ferrara per il Movimento 5 Stelle, sempre le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Lei ha parlato di PNRR, è un'opportunità per tutti i paesi dopo quello vissuto con la pandemia, tra i vari temi c'è anche quello della sanità, come si possono utilizzare questi fondi per migliorare la sanità ferrarese, emiliano e romagnola, ma anche tutta quella italiana? Allora, innanzitutto non è l'unica soluzione, ma incrementare le retribuzioni del personale sanitario che in questi anni, non solo di pandemia, è stato costretto a lavorare in condizioni disastrose. Questo perché il 5 Stelle ritiene che la dignità passi anche attraverso una retribuzione adeguata, cosa che oggi il personale che lavora all'interno degli ospedali non vede nelle proprie tasche. Un altro tema legato alla sanità è quello che richiama l'accesso numero programmato alle università. Ogni anno lamentiamo una carenza di personale medico, però andiamo a scoprire che il numero programmato è presente per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e in chirurgia. Il Movimento 5 Stelle propone anche maggiori fondi da stanziare soprattutto per la sanità del sud Italia, oltre che in generale a livello nazionale, perché i cittadini del sud riconoscono anche appunto la necessità di cercare una sanità di qualità venendo naturalmente, oltre che per le urgenze, al nord per usufruire appunto di determinate visite. All'interno dell'ambito della sanità tante donne, come tanti uomini, ma tante donne ci lavorano per vari motivi, a livello appunto anche delle professionalità e del riconoscimento dei diritti delle donne, di quel colmare, il gap che c'è sotto vari ambiti, soprattutto quello ad esempio dei salari, che cosa il Movimento 5 Stelle propone per appunto lenire questa lacuna? Innanzitutto il Movimento 5 Stelle propone l'equiparazione dei tempi di congedo, di maternità e di paternità proprio per una questione di parità di genere, cioè non sta scritto da nessuna parte che debba essere appunto la donna ad occuparsi della famiglia. Proponiamo anche la pensione anticipata per le mamme lavoratrici, dei contributi per le imprese che assumono delle donne in gravidanza. Purtroppo una realtà amara è quella appunto che oggi alcune donne, alcune ragazze sono costrette a scegliere fra il lavoro e ovviamente la famiglia e questo appunto ai giorni nostri non possiamo permetterlo. Oltre che anche una parità salariale a livello appunto di stessa mansione lavorativa. Purtroppo molte donne a parità appunto di condizioni lavorative guadagnano meno degli uomini, dei colleghi uomini e questo è inaccettabile. Ricordiamo le interviste integrali sul nostro sito di telestense.it. Cambiamo argomento, si terrà giovedì a Ferrara Fiere un convegno dedicato all'imprenditoria su sostenibilità e intelligenza artificiale. L'organizzatore dell'iniziativa è Umberto Baglietti, ce ne ha parlato nel corso dell'ultima puntata di InMatch, sentiamo. Siamo di fronte a una grande sfida, la sfida del pianeta, vediamo le risorse che scarseggiano, vediamo la grande difficoltà ad affrontare questi eventi climatici improvvisi, vediamo le bollette, vediamo che insomma il contesto al di là delle pandemie e tutto quello che vi ruota intorno è difficile. Io da tantissimi anni, ormai saranno più di 25, mi occupo proprio di lavorare dentro le aziende e in particolare per dare una mano, diciamo, col concetto del coaching, del mental coaching a decidere cosa fare e come farlo al meglio, ma non attraverso delle imposizioni, ma attraverso delle consapevolezze e delle azioni comunque che portano dei risultati. Questo evento nasce perché il dottor Robert Johnson, cui ho avuto l'onore e il piacere di lavorare nel 2006, che è un personaggio di carattura veramente internazionale, tant'è che questa è diventata Ferrara la tappa di un tour di 5 tappe che è partita da New York il 14 settembre, poi fa la tappa Ferrara, Helsinki, Valencia, Milano, insomma di questo siamo molto lusingati. E ho colto di nuovo l'occasione, quando mi ha ricontattato qualche mese fa, di fare questa iniziativa importante, molto impegnativa, ma credo che sia assolutamente in linea con la sfida che stiamo affrontando. Chi verrà appunto ad assistere? Che cosa si ritroverà di fronte? Allora, per obiettivi io intendo sempre qualcosa di particolarmente concreto, pragmatico, proprio anche come è forse nel momento e nella modalità con cui esercitiamo noi le nostre professioni, diciamo di coach o comunque di coloro che aiutano le aziende. Lui è un concreto, è un grande studioso, è un grande scienziato, mi permetto di dire, ha un curriculum veramente infinito, ha seguito personaggi molto autorevoli, altisonanti, tuttora segue aziende tra le più prestigiosi del mondo, al di là del fatto che mi incuriosisce tantissimo quando lo vedo all'opera, capire come fa a ricordarsi a parlare perfettamente sette lingue, tant'è che fa in tutto in italiano la nostra conferenza della durata di due ore. Tornando a lui, comunque, il fatto che ha scritto innumerevoli libri, diversi bestseller del New York Times, ed è stato, credo, Oscar della salute, anzi ne sono certo, nel 2018 negli Stati Uniti, nel 2019 in Italia, penso che averlo qua da noi, poterlo toccare con mano e vederlo, e ascoltarlo sia molto utile, anche per avere una spinta, una visione diversa. Ora parliamo di una iniziativa che dopo lo stop della pandemia è ritornata, con questa edizione del 2022, stiamo parlando della festa dei vicini, che si è tenuta a venerdì scorso nel Parco Giochi, accanto alla Biblioteca Comunale Bastani al Barco, un evento aperto ai cittadini, alle famiglie, per ritrovare la gioia di stare insieme. Assessore Coletti, il barco oggi in festa, grazie alla festa dei vicini, grazie a Acer, che ha organizzato tutto questo. Un ringraziamento particolare va di fatti alla nostra azienda La Casa, che in questa edizione ha voluto dare valore alla festa dei vicini, una festa che in questa edizione prende ancora più importanza, in quanto è impossibile non ricordare i momenti legati alla pandemia, e quindi oggi ci troviamo qui a festeggiare con tante persone, con tanti cittadini e con tanta voglia di stare insieme. Oggi ha organizzato questa festa che torna finalmente dopo anni non facili, con che spirito torna? Con la voglia, con lo spirito di ricominciare e di ritrovarsi, e soprattutto dopo due anni di pandemia, in che forse ha anche allentato le relazioni, c'è bisogno di ricostruire più di prima. Quello che si è notato è che nei rapporti di vicinato, l'isolamento per due anni, l'abitudine a stare da soli, a non contare tanto sugli altri, ha necessità di essere ricostruita, ricucita, e quindi la festa dei vicini è un'occasione per far capire che è stare in un buon rapporto di vicinato, vuol dire avere una grande famiglia, insomma, ecco. Rosalia Mascellani, ex dipendente di Acer, perché adesso è in pensione, però oggi alla festa dei vicini del barco è voluta venire lo stesso, perché? Perché, come immagini, siamo comunque affezionati a questa nostra creatura, che è nata appunto 10 o 12 anni fa, e l'abbiamo tenuta a battesimo, l'abbiamo creata, l'abbiamo preso spunto forse da qualche altra festa fatta nei vari condomini d'Italia e d'Europa e l'abbiamo un attimino ferrareizzata, l'abbiamo resa nostra, per cui c'è questo comunque contatto con gli utenti, io poi ho avuto nella mia attività lavorativa quasi esclusivamente contatto con il pubblico e quindi c'era anche questa voglia da parte nostra di comunque estendere questo nostro contatto anche in un momento ludico, come può essere questa festa. Doriana Sivieri, un ex dipendente di Acer che per una vita ha lavorato appunto nell'azienda Casa, tra le varie cose che facevate c'era anche l'organizzazione di eventi come questi, anche in Via Bologna. Anche in Via Bologna, parliamo di almeno 13 anni fa, siamo stati pionieri nella provincia di Ferrara perché era una festa allora sconosciuta, pur essendo una ricorrenza a livello europeo, la prima la facciamo appunto in Via Bologna dove c'è tanto patrimonio e fu molto partecipata e di lì abbiamo avuto la spinta per riproporre questa iniziativa per le persone, per farle conoscere, per farle socializzare e anche per dimostrare che Acer non era solo la casa e l'affitto, ma era anche comunione, divertimento se possibile e iniziative lodevole a mio modo di vedere. È una delle cose che rimpiango del mio lavoro. Ora le farfalle che si sono aggiudicate il podio più alto hanno vinto la prova squadra nei cinque cerchi davanti a Israele e Spagna, farfalle che hanno vinto anche l'argento, quindi dopo l'oro dei cinque cerchi, la squadra azzurra ha chiuso al secondo posto la prova con i tre nastri e le due palle alle spalle della Bulgaria, quindi prima Bulgaria e seconda Italia. Nella formazione ridatta a tutte del gruppo sportivo aeronautica militare, ricordiamo che Alessia Maurelli e Martina Sant'Andrea sono cresciute agonisticamente all'associazione ginnastica estense Otello Putinati. Di questo parleremo nelle prossime edizioni del TV Giornale. Ora ritorniamo al risultato della SPAL, l'intrasperta 3-3 a pareggio contro il Comun. Un risultato importante, ha detto Roberto Venturato, tra i mercatori anche Gabriele e Moncini. Credo che sicuramente abbiamo fatto un risultato importante, perché fare il risultato comunque è sempre un valore, e questo dobbiamo considerarlo, e su questo bisogna fare un plauso ai ragazzi, perché non hanno mollato fino alla fine e hanno voluto fare il risultato. Poi fare 20 minuti come abbiamo fatto all'inizio, essere solo 1-0 è un peccato, però eravamo 1-0 e quindi dovevamo essere capaci di mantenere il possesso, l'equilibrio e la concentrazione sulla gara. Abbiamo commesso due o tre ingenuità che hanno dato importanza al valore, alle capacità del Comun, che è riuscito a trovare il pare su una nostra ingenuità e poteva anche andare in vantaggio su un'altra ingenuità di Mancoso e di Alfonso. Quindi sicuramente alcuni errori di superficialità e di poca attenzione ci sono stati, però credo che poi la squadra ha sempre cercato di costruire, abbiamo costruito il pareggio fatto bene, un'azione molto bella, potevamo anche andare in vantaggio, non ci siamo riusciti, mi dispiace un po' che ci sono stati infortuni che non mi hanno permesso di fare i cambi, come avevo in mente di fare, però sicuramente ci sono delle cose, delle note molto positive di questa partita e ci sono delle cose sui quali sicuramente dobbiamo stare attenti, porre delle riflessioni, essere capaci di vederle, essere consapevoli che qualche limite ce l'abbiamo e su questi limiti essere bravi a lavorarci e a cercare di superarli. Quando abbiamo il pallino del gioco facciamo male a tutte le squadre, il problema è che poi caliamo, non so se di attenzione o non so di cosa, però concediamo troppe occasioni e anche oggi eravamo partiti benissimo, invece di chiudere la partita subito l'abbiamo lasciato quella riaprissero, siamo andati un po' in difficoltà, però dobbiamo guardare le cose positive, che comunque creiamo molta mole di gioco, l'abbiamo recuperata due volte, quindi secondo me dobbiamo ripartire da queste cose qua. La differenza di quest'anno nella SPAL è la rabbia, la determinazione che abbiamo, poi possiamo giocare bene, giocare meno bene, però quello che per adesso ci contraddistingue anche dalle altre squadre è la voglia di recuperare il risultato e vedo tutti questi ragazzi che si impegnano durante la settimana e si vede il sabato, che poi nessuno molla e quindi questa è una cosa molto positiva. Sono molto felice perché sto lavorando molto, dopo un anno difficile a Benevento e cercherò di ripagare la fiducia che ha avuto la società, soprattutto questi tifosi meravigliosi, quindi sono contentissimo di aver segnato, perché anche oggi sono arrivati tantissimi, è veramente una gioia vederli esultare. Possiamo giocare con continuità settimanalmente, con pochi turni infrasettimanali, sicuramente ci poteva dare ritmo e continuità nelle prestazioni. C'è questa sosta, usiamola bene per recuperare tutti, verificare anche i due infortuni che abbiamo avuto oggi e metterci nelle condizioni di prepararci al meglio per la partita col Genoa. Di questo naturalmente questa sera a lunedì Sport con Alessandro Sovrani e i suoi ospiti. Prima di chiudere però il Gran Premio Nuvolari, che ieri ha fatto tappa a Ferrara, le autostoriche impegnate nella 32esima edizione, vinta dall'equipaggio numero 7, formato dalla coppia Alberto Aliverti e Stefano Valente, alla guida di una BMW 328 Rotter del 1937. In piazza Riostea, come vedete, da queste immagini si è svolta la prova di regolarità a cronometro. La 32esima edizione era partita da Piazza Sordello a Mantua venerdì 16 settembre, un percorso di 1.100 chilometri che ha attraversato i paesaggi suggestivi di Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Veneto, poi in piazza Riostea ieri mattina a Ferrara, con la prova a cronometro. E nel pomeriggio il rientro a Mantua per i vincitori, lo ricordiamo la coppia Alberto Aliverti e Stefano Valente, si tratta del primo successo al Gran Premio Nuvolari nell'anno in cui si festeggia l'importante ricorrenza del 130esimo anniversario della nascita del Mantovano Volante. E con questo è davvero tutto, chiudiamo qua il nostro TV giornale. Grazie di essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.